Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, ben ritrovati. Oggi parliamo di ICDoc. Lo facciamo presentandovi quattro prodotti che l'azienda ha sul mercato. Sono quattro accessori che ci consentono l'estrazione e l'installazione rapida e veloce di SSD o di hard disk da 2,5 pollici meccanici all'interno del vostro case. Vedremo che ci saranno sia bei ad estrazione rapida quindi per bei da 3,5 pollici esterni che interni al case. Parliamo dunque di questi quattro prodotti. Partendo da sinistra abbiamo l'ICDoc EZ Trio che è l'unico tra quelli che vedremo oggi che ha una funzione interna al case quindi per un bei da 3,5 pollici che è quello del classic hard disk ma interno quindi per poter installare ed estrarre i dischi dobbiamo comunque aprire il case. Poi c'è il FlexiDoc che invece è per un bei esterno quindi bei frontali da 3,5 pollici quindi al posto ad esempio del floppy disk così come il Thogermore questo ve lo leggo perché è lunghissimo MB601VKB e mentre quest'ultimo è per gli slot dei lettori ottici slim o dei floppy disk ma in versione slim. Qual è la differenza sostanziale tra questi tre prodotti? Tutti e tre sono in metallo il Thogermore ha la possibilità di chiudere il bei frontale con una chiavetta di sicurezza entrambi lo possono fare questo qui ha un connettore però di tipo U2, U.2 quindi se la vostra scheda madre ne è sprovvista avete bisogno di un adattatore per poterlo utilizzare. Questo qui invece in fase di installazione necessita di alimentazione da cavo floppy il classico cavetto bianco da floppy serve per alimentare questo prodotto. Andiamo dunque a vedere più nel dettaglio l'interno della confezione di questi prodotti e nel caso di alcuni di essi vedremo una installazione. Ci rivedremo dopo questa parte del video per parlare delle conclusioni. All'interno della confezione troviamo il nostro IC dock flexi dock e 4 viti per il serraggio. L'IC dock è completamente in metallo nella parte frontale trovano posto lo switch per l'accensione, il pulsante per l'estrazione del disco e lo slot per l'inserimento del disco da 2,5 pollici. La parte posteriore invece è caratterizzata dal collegamento del cavo SATA e del cavo di alimentazione. L'installazione dell'IC dock flexi dock è molto semplice. Liberate il vano da 3,5 pollici destinato a un lettore floppy, prendete il vostro prodotto ed inseritelo all'interno del vano. Una volta effettuata questa operazione potete bloccare il prodotto tramite le apposite viti e collegare il cavo SATA e il cavo di alimentazione. L'installazione è completata. All'interno della confezione troviamo il nostro Sawgermore MB601VK-B, un manuale di installazione rapida, 4 viti per il serraggio degli hard disk da 2,5 pollici da inserire all'interno del prodotto, 4 viti per il serraggio del prodotto al tray esterno da 3,5 pollici del vostro case e 2 chiavi per chiudere la serratura di sicurezza del sistema. Il Sawgermore è completamente in metallo e nella parte frontale trova a posto il bay per l'inserimento del disco da 2,5 pollici e il sistema di chiusura tramite chiave. La parte posteriore è invece caratterizzata dal connettore SATA U2. L'installazione dell'IC dock Sawgermore MB601VK-B è praticamente identica a quella dell'IC dock. Liberate lo spazio da 3,5 pollici ed inserite il prodotto all'interno del vano. Una volta effettuata questa operazione ancorate il prodotto con le viti in dotazione, collegate il cavo SATA e il cavo di alimentazione e sarete pronti ad utilizzare il vostro rack. All'interno della confezione troviamo le Z-Fit Trio, 4 viti per il serraggio e un piccolo foglietto illustrativo che ci mostra come installare semplicemente il prodotto. Ricordiamo che ci sono vari tipi di installazione in base alla altezza dei vostri hard disk. Possiamo inserire ad esempio tre dischi con altezza compresa tra 5 e 7 mm in tutti e tre gli slot. Oppure possiamo inserire un hard disk da 9,5 mm di spessore nel 3 alto e un hard disk compreso tra i 5 e i 9,5 mm nel 3 più in basso. Per fare questa operazione però occorre inserire l'hard disk più in alto a testa in giù. Un'altra soluzione è quella di inserire un hard disk da 12,5 o 15 mm nella parte media, quindi nello slot in mezzo e un altro hard disk più sottile compreso tra i 5 e i 7 mm nel 3 più in basso. All'interno della confezione troviamo il Trio Garmor SATA Mobile Rack for Slim Optical Drive Disk or Slim Floppy Disk Bay, un manuale di installazione rapida, quattro viti che consentono il serraggio dell'SSD o dell'hard disk da 2,5 pollici all'interno del prodotto, quattro viti che consentono il serraggio del prodotto all'interno del case e due chiavette per la chiusura della serratura di sicurezza. Sulla parte frontale trova posto il bay per l'installazione dell'SSD e la serratura per il bloccaggio del sistema. Nella parte posteriore invece trova posto il connettore dell'alimentazione, classico per floppy disk, e il connettore SATA. Dunque abbiamo notato che l'installazione di questi prodotti è realmente semplice, sono degli accessori che possono essere molto utili soprattutto in ambito lavorativo, nel caso abbiate bisogno di portare con voi sempre i vostri hard disk e i vostri dati, oppure di mantenerli più a sicuro possibile anche sul posto di lavoro grazie per esempio ai FAU Garmor che consentono di chiudere la serratura e quindi il bay con il vostro disco all'interno e portarvi alla chiave così che chiunque passi per la vostra postazione non abbia accesso minimamente al vostro disco. Detto questo per oggi è tutto, vi esorto a lasciare un commento al video, ad iscrivervi al nostro canale di youtube se ne avete piacere e di dare un occhio al nostro sito extremehardware.com, ogni tanto facciamo qualche contest e non sia mai che magari vi capiti anche di vincere qualcosa. Dunque per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione un saluto, alla prossima ciao ciao! Ciao!